io non so parlare di Zagor l'emozione non ha voce e invece proprio di Zagor vi parlerò oggi cari amici della soffitta perché sono appena stato in edicola e ho preso questo volume cartonato come potete vedere solido buono anche se non vi dovesse piacere potete sempre usarlo per bilanciare i tavolini prezzo 2,99 prezzo appetibilissimo per questa nuova questa nuova collezione di Zagor lo spirito con la scura in una collezione che ripropone cartonata che ripropone le migliori storie di Zagor fin qua tutto bene il prezzo 2,99 dai prossimi 6,90 che sinceramente non è nemmeno un prezzo alto per dei volumi cartonati ci sta anche tutto perfetto poi è Zagor meglio di Zagor che cosa che cosa c'è è Zagor è un personaggio che mi piace sono dei volumi cartonati il prezzo è buono lo farò no perché perché mettere c'è l'unica pecca di questa collana perché mettere pubblicare delle storie cioè io posso capire spezzettate come finisco le frasi non mi ricogliorisco cioè io posso capire che in degli albi ci siano le storie che si articolano in più albi però un albo è un albo cioè tu lo prendi lo metti là lo tieni sul comodio questi qua sono volumi che in teoria vanno in libreria perché non proporre delle storie complete magari anche giustamente voi direte ma la fogliazione degli albi a fogliazione variabile accetto pure a prezzo variabile in modo che ogni tanto c'è la storia che mi piace io vado me la compro e ce l'ho in volume ma così io non sto raccogliendo niente in volume cioè se devo avere dei volumi con delle storie spezzettate che senso c'è mi tengo gli albi vi faccio vedere l'interno che è bello perché anche il colore ci sono pure figurine 4x4 figurine il la carta è ruvida non come questa berda che uscì con la carta flesciante con questi carta lucida bruttissima guardate poi con l'umidità guardate che brutta cosa questi albi tremendi questo è davvero bello cartonato carta ruvida il colore diciamo non è non è aggressive una colorazione diciamo neutra che ci sta bene l'unica cosa perché fanno spezzettato ma addirittura le figurine sono spezzettate che cazzo manco la figurina intera da attaccare sul cruscotto della macchina magari non faccio la collezione però la figurina ve l'attacco niente per forza che ti devi accattare il numero successivo io sinceramente sono nel dubbio se farla o no ma perché così non ha senso cioè avrebbe avuto per me poi ditemi voi se siete dello stesso parere avrebbe avuto senso fare una raccolta di storie come quelle che escono per esempio per mondadori di storie complete di saghe complete ma si è pure che doveva costare 10 euro il volume va bene no però 10 euro per una saga completa una storia completa un volume no che mi raccoglie no tutta tutta la storia completa io ce le spendo pure ma così non che io spendo 6 euro e 90 a settimana a settimana lasciamo perdere che il prodotto comunque le vale però se euro e 90 a settimana per avere comunque dei volumi che sono altro non sono che degli albi ristampati no c'è questa cosa assolutamente no 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 non mi piace il video di zagolo finisce qui perché vi devo dire una cosa allora manco oggi è 28 mancano tre giorni a natale vorrei fare un video con delle piccole clip naturalmente fatele orizzontali riprendetevi col cellulare e mandatemele in privato mi trovate su facebook come roberto dipintendo mi trovate su instagram molti di voi hanno il mio numero di telefono quindi chiamatemi ma mandatemi dei video con delle clip di auguri per l'anno nuovo e magari un consiglio su cosa un consiglio fumettistico su cosa leggere su cosa leggere per il 2020 qualcosa che li ha colpito particolarmente di questo 2019 ha messo tutto certo non esagerate già basto basto io sempre comunque nel rispetto insomma non c'è bisogno che ve lo dico dai non siete non siete dei bambini lo so quindi io vi saluto aspetto queste clip in questi due giorni spedite me le inviate me le fate tanto un video di un minuto non vi costa niente è piacevole è una cosa bella perché vivere non vivrete vi vedrete su questo canale in 5k full hd no niente per sparare la connessione vi caricherò in 480p se vi va bene ragazzi un bacio ci vediamo alla prossima grazie per l'ascolto e cattati buzzagor ciao